Ciao, sono Paolo Balci e vi presento questo van della Vinesberg, un camper per quattro persone con due letti matrimoniali. Se volete vedere la scheda, cliccate sulla vostra destra in alto, che si aprirà la scheda del nostro sito con tutte le caratteristiche, dimensioni, optional, prezzo di listino e soprattutto prezzo chiave in mano, quello che è la cosa più importante per l'acquisto. Ora io cerco di darvi una conoscenza per quanto riguarda l'abitabilità di questo camper. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanellina che sarete sempre aggiornati dei miei video, di quelli di Nicoletta del Market e di Andrea Tecnici. Andiamo a vedere questo bel van. Allora, qui i due fuochi e il lavandino. Poi, porta zanzariera, quindi chiude tutta la porta. Qui un contenitore sopra cucina e qua le cassettiere sotto il blocco cucina. Vedete come sono molto capienti. Qua il frigorifero con il suo congelatore e qua un altro grande contenitore sotto l'armadio. La zona giorno. La zona giorno ha i quattro posti, quindi uno, due, tre, quattro. E poi il tavolo si allunga e permette anche al quarto posto di avere il suo piano. Questo si può abbassare e fare diventare un letto, però ha poca importanza perché sarebbe il quinto, quindi non è omologato per cinque, però all'occorrenza è possibile. Il letto basculante è molto semplice, guardate, pronto e ha il suo oblo, quindi un bello scambio di aria e poi un contenitore da poterci mettere più cose. E questo è il letto basculante. Eccomi qua. Allora, io sono 180 e sono un po' più lungo, quindi un po' più corti è meglio, però la larghezza è molto ben accogliente come larghezza. Oppure dormire al contrario, quindi avere un po' più vicino. Eccomi qua i piedi. E questo è il letto matrimoniale. Le due finestre apribili in fondo, l'oblo e come vedete è veramente grande, anche se strettisce dalla parte di là, ma è veramente un enorme letto. Poi, grandi sono i pensili, perché per quattro persone sono molto importanti questi grandi pensili, sia a sinistra che a destra. E ora andiamo in bagno. Questa è la seduta, piano d'appoggio. Questo è lo spazio doccia. Mi muovo bene, ci sono i ganci, quindi la tenda che è qui, ora in questo caso, che gira tutta, ma se la metto non mi vedete. Invece forse è meglio farvi capire l'ingombro e la profondità di questo bagno. Poi questo è il funghetto, quindi una presa d'aria, e in più questo è un appendiabili che si possono mettere nelle cose bagnate, così si asciugano, scaricano facilmente. E qui è la finestra. Questo è un altro contenitore, guardate come funzionale. Questo altro contenitore e anche quest'altro un grande contenitore. Il lavandino è un pochino stretto, però forse è abbastanza importante avere questa manovrabilità all'interno del bagno. Eccomi qua. Bisogna fare un po' attenzione a lavarsi il viso, perché ci si sbagna tutto, però tutto il laminato è di materiale plastico, quindi non avete problemi a asciugarvi velocemente. Questa è la parte posteriore. Vedete qui in basso le dimensioni di quello che state vedendo e poi nei van, così potete anche andare all'IKEA a portarvi un mobile, perché questa parte si toglie e quindi c'è un grande spazio per lungo. Oppure, usare in due il letto superiore, questo toglierlo e quindi avere un grosso vano di carico sempre a disposizione. Quindi, se vi è piaciuto questo video, venite a vederlo, perché l'impressione che vi può dare è unica e vostra, per poter fare delle bellissime vacanze. Dietro anche i nostri consigli, che vi porteranno a riflettere su un acquisto ponderato. Quindi, come sempre, con gli ottimi prezzi e servizi caravambaci. Ciao!